sempre alta l'attenzione in Val Gandino per la strada provinciale che da Fiorano a Serio sale verso l'Effe in territorio di Casnigo in questo tratto sono stati troppi gli incidenti anche mortali ripetutesi negli anni la recente tavola rotonda a cui hanno partecipato i sindaci dei comuni interessati l'Effe Gandino, Casnigo, Cazzano, Sant'Andrea e Peia è servita per delineare il percorso da intraprendere nelle prossime giornate di ripresa lavorativa quando il traffico ometterà considerevolmente e con lui il rischio di altri fatti di sangue noi abbiamo fatto sopraluogo e abbiamo individuato alcune attività che si possono fare per mettere maggiormente in sicurezza la strada questa strada quindi dovrà in qualche misura avere delle modifiche riguardo possibilmente all'illuminazione pubblica serale riguardo ai limiti di velocità, riguardo presumibilmente anche alle vie di accesso, di ingresso e di uscita da queste strutture commerciali per cui pensiamo che ci possa essere un miglior livello di sicurezza per tutti quelli che transitano e cerchiamo ovviamente anche con la riduzione della velocità di ridurre la possibilità di incidenti sempre più gravi la competenza è della provincia di Bergamo che poco può fare vista la mancanza di risorse e la lentezza burocratica attivo anche il comitato amici delle vittime della provinciale 42 impegnati in una raccolta di firme per la messa in sicurezza della cosiddetta strada della morte abbiamo visto quali sono le possibili alternative e adesso formalizzeremo le nostre proposte le proporremo alla provincia e ovviamente avremo anche una scarsa disponibilità di risorse però un contributo ci potrà venire dalla comunità montana e vedremo con queste risorse quali delle attività previste possono essere messe da subito in cantiere rimane una priorità per la Val Gandino? assolutamente sì